Ciao Lorenzo, buongiorno. Senti, riparto dall'estate 2019, tu tornaste a Firenze, non dico quasi per sbaglio perché tu eri un giocatore della Fiorentina, però c'era quasi la sensazione che fosse un momento di passaggio, invece adesso ti sei consolidato, sei diventato uno dei leader dello spogliatoio, hai fatto tanto l'anno scorso e nell'incontro con la Curva sei stato eletto come uno dei leader carismatici e un esempio da seguire, ti chiedo come stai vivendo questo momento e questo tuo nuovo ruolo all'interno della squadra, grazie. Innanzitutto buongiorno a tutti, lo sto vivendo come un sogno che si avvera, perché non l'ho mai nascosto che è sempre stato un mio obiettivo quello di affermarmi qua, di cercare di diventare uno dei punti fermi della squadra e sono contento di come siano andate le cose, sono contento l'anno scorso di aver trovato continuità sul campo perché è quello che mi mancava, spero di poter continuare così e per quanto riguarda all'interno dello spogliatoio e per quello che è successo con i tifosi, per me è motivo d'orgoglio perché è quello che ogni volta scendo in campo cerco di trasmettere, per cui se i tifosi se ne sono accorti e se dentro lo spogliatoio i miei compagni se ne rendono conto vuol dire che per quelli che sono i miei valori sto facendo un buon lavoro. Noi dalla tribuna sentivamo un po' il discorso che vi stavano facendo gli ultra, a un certo punto quando hanno alzato la voce dicevano agli altri giocatori e se avete dei dubbi chiedete a Lollo, chiedete a Lollo cosa si devono chiedere i giocatori, questa è la prima domanda, è cosa ti senti di dire tu ai giocatori per motivarli su Firenze e sulla Fiorentina e l'altra cosa se uno dei sogni davvero della tua vita sarebbe diventare capitano più o po' di questa Fiorentina? Guarda allora, quello che la squadra mi deve chiedere non mi devo chiedere niente di fatto perché io quello che posso, come ho già detto, cercare di trasmettere è quello che significa giocare per questa maglia, è quello che significa rappresentare le persone che ci sono fuori e la città, poi credo che ogni giocatore debba avere le sue motivazioni personali, di conseguenza quando le motivazioni personali vanno di pari passo con quelle della squadra vuol dire che lì c'è il giusto rapporto e la giusta motivazione per raggiungere obiettivi importanti. Io come ho già detto, quello che posso dare in più, essendo di Firenze è proprio questa cosa di far capire bene cosa significa Firenze, cosa è la Fiorentina e quello che è nel panorama del calcio italiano, ma non perché ne so più di qualcun altro, ma perché sono di Firenze e magari me lo sento più addosso rispetto agli altri giocatori. Per quanto riguarda la faccia da capitano, averla avuta anche in queste amichevoli è inutile stare a parlarne, per me è un orgoglio, ma il capitano ce l'abbiamo, è German, è qua con noi, adesso non c'è perché comunque ha fatto la Coppa America, è qua con noi e finché sarà qui sarà lui la persona a cui fare capo e rispettare. Se poi dovesse andare via sicuramente la scelta del capitano sarà una scelta presa tra la società, l'allenatore e il gruppo. Ciao, due cose, la prima è proprio tattica, lo scorso anno soprattutto nella tua posizione era proprio un sistema diverso, quindi la fascia era tutta tua, nel 4-3-3 in teoria c'è un esterno davanti, quindi in teoria dovresti essere più difensivo. In realtà mi pare che in italiano vi chieda una grande spinta, quindi volevo capire dal punto di vista anche tattico come cambia un po' la situazione per gli esterni bassi. A proposito di esterni bassi e di motivazioni, in questo gioco delle coppie che fate spesso, chiaramente l'altro terzino destro è Lirola, chiedo come lo vedi perché è un ragazzo dalle grandissime potenzialità però non abbiamo ancora capito se rimarrà, quindi intanto come lo vedi, se lo vedi motivato e che tipo di calciatore è per te? Grazie. Guarda, personalmente mi trovo più a mio agio in una difesa a 4, nel classico terzino piuttosto che a 5 come eravamo l'anno scorso. Sono contento di quella che è la filosofia del mister, perché comunque è una filosofia molto propositiva, per cui non c'è bisogno di limitarsi a difendere, ma c'è tanta costruzione dal basso, tanta costruzione del gioco, quindi anche i terzini solitamente magari in un'organizzazione toccano pochi palloni, invece ne ricevono tanti e quindi c'è molta possibilità di mettersi in mostra e di risultare determinanti. Per quanto riguarda Paul, io non so che saranno le sue decisioni, io quello che posso dire è che è un giocatore forte, lo ha dimostrato più volte nel campionato italiano quando era a Sassuolo, lo ha dimostrato nei sei mesi che è stato a Marsiglia, credo che sia assolutamente un valore aggiunto per la squadra e anche per me personalmente, perché comunque quando ti competi con un giocatore bravo c'è sana competizione, vuol dire che il livello si alza non solo mio, ma del resto della squadra e quindi si può ambire a risultati più importanti. Ciao Lollo, due cose anche io velocemente, la prima mi volevo riallacciare al tuo discorso del senso di appartenenza, sei un fiorentino che è cresciuto nella Fiorentina, vedo che il settore giovanile della Fiorentina a qualche anno ha intrapreso una politica molto pesante con i toscani e i fiorentini, è un sogno fra qualche anno avere più di un venuti in prima squadra, c'è una fiorentina dei fiorentini? Secondo te è realizzabile? Io credo che tutto è realizzabile, l'importante è sposare appieno questa linea guida, perché io credo che di ragazzi bravi ce ne siano tanti, adesso chiedo scusa non seguo molto il settore giovanile, non so bene come sta andando, però credo che se i ragazzi come ce l'ho fatta io ci credano ed è veramente quello che vogliono si possa arrivare ad avere tanti fiorentini all'interno della società e credo che questo alla fine dei conti sarebbe veramente motivo di vanto per tutti quelli che sono qua, che sono a Firenze e che vivono la Fiorentina come Fiorentina appunto essendo di Firenze. Senti, un'altra domanda è sull'allenatore, c'è una cosa più delle altre per la quale l'italiano può diventare decisivo? Una sua caratteristica? Qualcosa che lo può rendere anche originale, unico e che può dare una mano alla Fiorentina? Grazie. Io credo che quello che parla del mister sono i risultati, sono il fatto di essere partito dal basso e aver vinto campionati, quindi credo che a livello mentale sia un vincente e quello che posso dire è vedendo il campionato l'anno scorso che ha fatto lo Spezia, sono riusciti a raggiungere una salvezza con una cosa fondamentale che non tutti hanno, cioè un'identità e credo che questo sia il primo step, il primo obiettivo che noi dobbiamo avere ascoltando quello che ci propone il mister, cioè raggiungere una nostra identità e poi partendo da quella vedremo dove riusciremo ad arrivare. Buongiorno Lorenzo, volevo chiederti qualcosa in più sulle catene, vengono citate molto le catene, qual è il lavoro che viene richiesto da italiano e quello che tu ti senti di poter dare magari in più rispetto ad altri? Grazie. Il lavoro che ci chiede il mister è, come ho detto prima, un lavoro molto di costruzione, tutti gli interpreti, tutti gli undici in campo devono essere in grado di gestire bene la palla, anche appunto sulle fasce laterali dove ci sono degli scambi di posizione per cercare di farsi trovare nelle cosiddette posizioni intermedie per poi andare a puntare la squadra avversaria. Non è un possesso palla, diciamo, sterile a se stesso, è un possesso prontato per andare in avanti e per andare a cercare di fare gol. Quello che io posso dare, non c'è qualcosa che io posso dare che qualcun altro non può dare, perché tutti siamo utili, nessuno indispensabili, ma tutti siamo determinanti. Per cui credo che ognuno di noi debba mettersi in testa di essere la miglior versione di se stesso e, ripeto, proprio con questa unità, con questa voglia di migliorarsi si può arrivare a raggiungere obiettivi importanti. Ciao Lorenzo, buongiorno. Due considerazioni di domande. La prima, quanto è stato importante per te quando Prandelli lo scorso anno ti ha battezzato il nuovo Jorgensen, non anche per il peso specifico che Jorgensen aveva in quella Fiorentina e te stavi crescendo proprio da ragazzino, proprio da un punto di vista anche di personale, detto che poi nello spogliatoio c'eri da tanto tempo. E l'altra, Buonaventura qualche giorno fa ha detto, per non ripetere gli errori dello scorso anno, dobbiamo partire con poche aspettative, con tanta umiltà e ha detto prima raggiungiamo la salvezza e poi ci togliamo altre soddisfazioni. Ecco, sei d'accordo ed è se è la vostra linea guida, seguendo poi anche l'identità che dicevi prima. Grazie. Per quanto riguarda Prandelli, io quello che ti posso dire è che la cosa che per me ha fatto differenza è stata appunto la continuità con cui mi hanno scelto per giocare da titolare. e quindi questo io credo che per un giocatore sia veramente fondamentale, perché trovi fiducia, trovi minuti e trovi cose che magari quando sai giochi un pochino meno non hai. Sono d'accordo con Jack, pienamente d'accordo, perché negli ultimi anni siamo sempre partiti diciamo, tra virgolette, con la bocca larga. Si arriva in Europa, si arriva qua, si arriva e poi ci siamo trovati a lottare per realtà che non ci appartenevano e che nessuno pensava di dover affrontare. Quindi sono d'accordo appunto con Jack che bisogna partire piedi per terra. Come ho già detto prima, il primo step deve essere trovare un'identità. Cioè quando scendiamo in campo la gente dice quella è la Fiorentina, non quella è una squadra qualunque che fa cose a caso. Quella è la Fiorentina, quello è il modo di giocare della Fiorentina e di interpretare le partite. Una volta trovato questo si potranno decidere quali obiettivi raggiungere. Ciao Lorenzo, Pasquale Marcantonio, Fiorentina1.com. Volevo chiedere da un veterano come te, se posso considerarti tale ormai, un giudizio in particolare su Terzic, col quale condividi il ruolo ma non la fascio ovviamente. Quali consigli ti senti dare a questo giovane? Come credi si sia messo in luce in questo ritiro? Pare che abbia fatto buone cose. Volevo sapere quali consigli ti senti dare a questo giovane per crescere ancora di più? Grazie. Guarda io i consigli che posso dare a Terzic sono quelli di continuare a fare quello che sta facendo, ovvero si sta allenando sempre al massimo, facendo quello che più gli riesce meglio. Ha fatto un buon campionato l'anno scorso perché so cosa significa giocare in Serie B, hanno vinto il campionato e questo sicuramente aver trovato continuità, aver trovato ritmo l'ho aiutato molto e semplicemente di continuare a lavorare perché la mentalità che hanno loro, che hanno come Dusan, che ha come Nicola, Milenkovic, è una mentalità di persone che vogliono arrivare e credo che lavorando come sta facendo si possa togliere le soddisfazioni. Ciao Lorenzo, buongiorno. Tu parlavi di Fiorentini che ce l'hanno fatta. Un tuo pensiero su Lorenzo Zazzeri, tifosissimo della Fiorentina, che ha conquistato una meravigliosa storica medaglia d'argento nella 4%, una specialità monstra del nuoto. Grazie. Sono felicissimo del risultato che ha ottenuto. Innanzitutto quando ci sono gli italiani che raggiungono i suoi obiettivi è sempre un motivo d'orgoglio per tutti. Poi il Fiorentino, è un tifoso della Fiorentina, quindi gli faccio i miei più sentiti complimenti e spero che possa essere la prima di una lunga serie di medaglie. Ieri l'altro mister italiano ci ha parlato del suo dispiacere nel non avere a disposizione i sei calciatori che erano con le nazionali qua a Moena. Quindi ti chiedo quanto è importante secondo te il lavoro che state facendo sul campo e se hai sentito alcune idee nazionali eventualmente cosa gli hai detto. Grazie. Credo che avere il gruppo al completo sia fondamentale per qualsiasi allenatore, soprattutto quando sei nuovo come è il mister e ti propone una filosofia di gioco diversa da quella che abbiamo avuto negli ultimi anni. Quindi avere tutti gli interpreti a disposizione è fondamentale. anche perché ci stiamo allenando molti ragazzi della primavera che si sono messi subito a disposizione e per questo gli faccio i complimenti perché non è semplice. Ci sono passati anche io e so quanto è difficile. Però si stanno allenando bene e questo sta aiutando la squadra ad allenarsi al meglio. Sicuramente quando torneranno i nazionali che sono giocatori diversi il livello si alzerà, si vedranno ancora di più i valori e credo che si possa allenarsi in maniera più diciamo più completa. Sappandoci per un attimo gli occhi sembra quasi che a volte tu parli da tifoso anche della Fiorentina e così lo sei da quando sei nato. Ti chiedo da tifoso e non da compagno di squadra. Perché Vlaovic dovrebbe restare in maglia viola? Da tifoso? No, allora, già questa domanda mi era stata fatta anche l'anno scorso, un po' di tempo fa in merito appunto a quello che avrebbe dovuto fare o non fare Dusan. Io credo che Dusan abbia un futuro davanti forse inimmaginabile adesso per quello che può raggiungere. Io quello che gli dico è che lui è giusto che insegue i suoi sogni. Io sono tifoso ma non sono il tifoso che mette tra virgolette i paletti a un giocatore, rimani qua, rimani qua. Io credo che chi è qua deve esserci perché ci vuole stare e Dusan se ci vuole stare allora è giusto che rimanga e lo sta dimostrando in campo perché è una persona che se non ci volesse stare sicuramente non si allenerebbe come si sta allenando. Però allo stesso tempo è giusto che lui segue i suoi sogni e che vada dove pensa e possa aiutarla ad arrivare il più lontano possibile. Buongiorno Alisa Grellone, laberroviola.com. Ciao Lorenzo, volevo chiederti in questi primi giorni di ritiro quale metodologia di allenamento di mister italiano ti ha maggiormente stupito? Grazie. Ma io quello che più mi ha stupito è proprio questa ricerca dei particolari. È un allenatore che si vede che studia molto calcio, che lo ha vissuto e che lo vive molto intensamente perché quello che ci chiede è un gioco molto minuzioso appunto nella scelta della giocata, nel vedere prima quello che dobbiamo fare. Deve quasi diventare un meccanismo autonomo quello che noi facciamo a un campo ed è proprio con la ripetitività che lui ci sta proponendo e ci sta cercando di far raggiungere, che arriveremo appunto ad avere questi meccanismi autonomi dove i giocatori trovano la giocata e pensano tutti nello stesso modo. Perfetto, grazie. Buon lavoro. Erano le parole di Lorenzo Venuti che ha salutato, sorriso, schietto, faccia decisa però al tempo stesso, risposte chiare sugli obiettivi, su quella che è la volontà della squadra, su quelle che sono anche le indicazioni del mister molto precise per arrivare agli automatismi che poi serviranno durante le partite di campionato e magari nei momenti di difficoltà, delle sicurezze a cui appoggiarsi, sicurezze che ha trovato anche lo stesso Lorenzo nel corso dell'ultimo campionato, giocando di più, trovando naturalmente anche la possibilità di essere protagonista con la maglia da titolare diverse volte, fino ad arrivare a questo ritiro di Moena dove è partito diverse volte anche con la fascia di capitano, però come ha ricordato giustamente lo stesso Lorenzo Venuti, la fascia di capitano appartiene a German Pezzella e poi vedremo naturalmente quando ritornerà dal ritiro di nuovo il capitano della Fiorentina qui insieme agli altri compagni o se no nei ritiri che seguiranno giù a Firenze. Un Lorenzo Venuti che ha parlato in maniera chiara anche dei compagni di squadra, della voglia di stare insieme, della voglia di inseguire tutti gli stessi obiettivi, motivazioni che possono fare la differenza e infine, come hanno chiesto gli stessi tifosi, Firenze lo so cosa vuol dire perché qui ci vivo, qui è cresciuto naturalmente facendo anche tutta la trafila delle giovanili e tra poco lo sentiremo proprio ai nostri microfoni anche rispondere alle vostre curiosità, alle domande dei tifosi che verranno come sempre moderate dalla nostra Veronica Maffei che insieme a Rossella Petrillo coordina lo studiolo. Allora andiamo da Veronica Maffei tra qualche secondo, mentre stiamo vedendo ancora le immagini dell'ultimo allenamento di Lorenzo Venuti, carichi di lavori importanti ma anche la voglia di dare il pallone preciso ai compagni per mandarli in gol. Grazie Luca, siamo già pronti con Lorenzo appunto per lo spazio che sempre riserviamo ai nostri tifosi. Abbiamo raccolto, caro Lore, qualche domanda per te dei nostri follower su Instagram, ma insomma ci possono scrivere e continuare ovviamente a commentare su tutte le piattaforme. Ci sono anche molti complimenti e commenti per te. Partiamo subito da questo. Niente domande, scrive Collini Mike, solo complimenti grande Lollo, però Cosimo invece ha assolutamente una domanda più impegnativa. Quali sono le aspettative per la prossima stagione? Le aspettative della prossima stagione? Io partirei dal basso, senza darci obiettivi strani, come magari è successo negli anni passati dove parlavamo di Europa e dopo ci siamo trovati a lottare per altri obiettivi. Quindi, come ho detto anche in conferenza, la cosa fondamentale è che noi riusciamo a trovare un'identità di squadra dove tutti ci riconoscono, dove tutti dicono quella è la Fiorentina. Una volta raggiunto quello possiamo darci obiettivi proprio in termini di classifica. Alessio invece ti chiede, preferiresti fare un gol o una sovrapposizione con cross assist per Dusan? Sinceramente, l'anno scorso ho fatto gol in Coppa Italia, però allo stadio era vuoto. Mi piacerebbe molto poter segnare con le persone allo stadio e magari ricevere l'abbraccio dei tifosi. Eh sì, una bella esultanza sotto la curva. Eh, magari. Lorenzo invece scrive, quanto hai lavorato per arrivare fino a questo punto? Ho lavorato tanto. Bisogna lavorare tanto perché, come ho sempre detto, il lavoro è il mio credo perché non avendo talenti particolari per arrivare a questi livelli bisogna credere tanto nella quotidianità, nella ripetitività delle cose e solo tramite tanto lavoro, tanto sacrificio si può arrivare in alto. Alessio scrive, chi è invece il compagno di squadra che più ti fa arrabbiare, insomma, con il quale ti prendi di più? Ma guarda, ad oggi quelli con cui mi prendo di più sono i ragazzini della primavera, ma semplicemente perché cerco di spronarli, perché ci sono passato anch'io un po' di anni fa quando salivo in ritiro con la prima squadra e quindi quelli con cui ho, diciamo, il polso un po' più duro sono loro. Invece quello con cui vai più d'accordo, che fai più coppia fissa? Ma guarda, vado più o meno, vado d'accordo con tutti. Per fortuna sono una persona molto aperta, disponibile e solare, quindi cerco veramente di essere il fratello di ognuno dei miei compagni. Allora, il nome è impronunciabile, però ti chiede, prima del calcio hai praticato altri sport o segui altri sport? Allora, seguire altri sport, no. Ultimamente mi sono appassionato tanto al padel. Mi piace, mi piace veramente tanto, è uno sport che mi piace. Sei nella moda. Ma al di là della moda è proprio una cosa che mi piace. Ti diverte. Che mi diverte tanto. Prima di giocare, no, ho fatto proprio per qualche anno nuoto perché ero molto piccolino, ero molto esile e quindi non mi volevano far iniziare a giocare a calcio perché avevo paura che mi facessi male. però per il resto niente. A quanti anni hai cominciato? Ho cominciato a sette anni. Allora, Alessio, poi scrive Lollo Capitano con i cuori e poi Lollo ci puoi spiegare chi è l'admin della Fiorentina. Con questa storia mi avete dato una bella gatta da appelare. Ora io non so se continuare a tenere il gioco o se smascherarvi tutti. Soprattutto su TikTok che io non ho tra l'altro, però dove molti su Instagram mi scrivono ma sei l'admin di TikTok? Ti stanno massacrando anche sul tuo personale. Ma sei te, ma sei te. Io non vorrei deludervi ma l'admin io non lo sono. Ecco, questa è la notizia, l'abbiamo detto. Matti scrive sei un esempio per tutti grazie Lollo Fiorentino Vero. Quanto tieni a questa maglia invece? Scrive Luca. Tengo tanto. Tengo tanto perché è come se per me fosse una seconda pelle. Sono arrivato alla Fiorentina nel 2004. Avevo nove anni per cui me la sento proprio cucita addosso e quello che cerco di trasmettere è proprio questo senso di appartenenza e questo valore che ha per me la maglia ma soprattutto la città. Elena invece quanto è difficile per te controllare la pressione mentre sei in campo e mantenere la calma? Per tutti poi. È una cosa esatto che tutti si trovano a dover affrontare. Ognuno ha ai suoi modi diversi di iniziare di prepararsi a una partita e credo anche che l'esperienza aiuti ovvero le prime partite sicuramente da professionista uno la sente un po' di più la pressione via via che giochi questa cosa la senti meno e riesci a prepararti in maniera migliore. Fortunatamente non sono uno che ho bisogno di grandi cose all'interno dello spogliatore prima della partita per prepararmi ma basta un po' un po' di silenzio un po' di concentrazione e siamo pronti per entrare. Andrea cosa hai provato quando hai indossato la fascia di capitano all'amichevole? Per me è veramente motivo di vanto di orgoglio perché già indossare la maglia per me è qualcosa di incredibile quindi figuriamoci ad avere la fascia del capitano. Allora partiamo anche con delle domande un po' diverse il primo tatuaggio scrive Tommy primo tatuaggio avevo 18 anni ce l'ho qua qua sulla pancia se volete vi racconto un aneddoto che non è carino però insomma per me non è stato carino sentiamo come i miei genitori non lo sapevano ok io me lo sono fatto lo stesso comunque sai ho perso ho perso un po' di sangue perché fare tatuaggi si perde un po' di sangue la sera quando sono tornata a casa quando me lo sono lavato mi ha fatto effetto e sono svenuto quindi figuratevi i miei genitori soprattutto mio babbo da non saperlo a vedermi svenire per il tatuaggio vi lascio immaginare l'ha presa bene l'ha presa bene segui i social quali sono i tuoi preferiti i tuoi profili preferiti questo è 999 ma allora io inizialmente molto attaccato ai social è un periodo dove cerco di disintossicarmi non faccio grandi cose però per esempio la mattina la prima ora che sono sveglio cerco di non utilizzare il telefono e di non vedere nessun social comunque se ti dovessi dire un social sulla quale passo più tempo è sicuramente Instagram anche perché Facebook non ce l'ho TikTok non ce l'ho e quindi rimane solo quello allora gli ultimi due ma sono due cose su cui ti vogliamo proprio alla grande allora coro preferito e a questo punto intonalo anche no 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 questo non me lo ricordo già mi avete fatto fare questa figuraccia con bambini me lo ricordo mi avete fatto cantare io non me la ricordo c'era anche te sì io me lo ricordo è l'inno della Fiorentina no ma non c'è un coro preferito io credo che sia tutta bella l'atmosfera infatti la cosa ci tengo a a marcare è questa la mancanza che abbiamo avuto nell'ultimo periodo dei tifosi è stata è stata pesante quindi spero che si possa tornare alla normalità a risentire tutti i cori grazie grazie Lorenzo